Dal 5 aprile al 4 maggio ogni cittadino residente nel comune di Caltanissetta di età non inferiore ai 16 anni potrà esprimere la propria preferenza e votare la proposta progettuale più gradita tra quelle ritenute ammissibili dall'apposita commissione. 23 dunque le proposte che si contendono le cifre del bilancio partecipativo 2021 per un importo complessivo di 40.000 euro, ma ogni singolo progetto doveva prevedere un costo massimo di 8.000 euro. Delle 7 aree tematiche iniziali ne sono state selezionate dai cittadini 3 e su queste dovevano essere sviluppate le proposte progettuali. Adesso sarà ancora una volta la cittadinanza a votare e a scegliere tra quelle ammesse all'ultima fase ed in particolare 13 per l'area tematica cultura, 2 per lo sport e 3 per l'area tematica cura e bellezza del centro storico. Idee presentate da singoli cittadini, associazioni culturali e sportive, comitati di quartiere e non solo. Ciascun cittadino, previa registrazione, potrà esprimere una sola preferenza tramite lo spazio dedicato al bilancio partecipativo all'interno del sito del Comune Nisseno, lì dove troverà anche le stesse proposte, con tutti i dettagli utili per comprendere così le attività previste, finalità obiettivi, ma anche i destinatari ed eventuali approfondimenti e informazioni sui singoli progetti.